Astronave in mostra, un viaggio ideale, immaginario, quasi necessario attraverso mondi vari, spesso alternativi, e che meglio rappresenta la cifra artistica di TAMB, un'esperienza tanto simbolica quanto più reale, esposta al tip teatro di Ramezia Terme, nella sala Canyon Inverso, che tanto ha raccolto e restituito agli spettatori in questi ultimi anni di esperienza a tratti esaltante. Astronave in mostra, perché il filo conduttore di questa mostra, appunto, la tematica è l'astronave, quindi è un viaggio che attraversa vari mondi, che poi sono rappresentati nelle tele, nei quadri. Un viaggio dunque attraverso altri mondi, che in un periodo storico come quello contemporaneo, potrebbe essere forse una soluzione ideale. Visto che qua, insomma, oggi è imperante la separazione, la divisione e l'isolamento, per me invece è ancora il viaggio e il ponte tra i mondi e le genti, è ancora qualcosa che c'ha senso. TAMB poi ha raccontato ai nostri microfoni l'esperienza esaltante e quasi underground di fumetti randaggi e il successo raccolto in questi anni. È una manifestazione che nasce nel 2016, che ha toccato già dieci città e che normalmente si muove sulle autoproduzioni e quindi su una editoria che è diversa da quella ufficiale, da quella gestita dagli editori, dalle major, eccetera. Quindi dà visibilità a prodotti che normalmente non hanno questa grande visibilità. Nelle grandi manifestazioni è prevista un artistale, per esempio, per le autoproduzioni, però normalmente è sempre un qualcosa di defilato, di periferico, mentre invece questa manifestazione qui è fondata su loro. Grazie. Grazie.